Da Mr. Maradona che a me personalmente è sempre piaciuto quando anche era con il Napoli United, quindi è una bella gara. È una gara dove sai le difficoltà e sai sicuramente le qualità degli avversari, in tutti i ruoli, in tutte le parti, però sai anche che ovviamente loro, anche se stanno magari, puoi trovarti una giornata, ma loro e nella tua massima giornata, loro basta un secondo, un attimo, gli dai un metro, ti fanno male. Quindi bisogna essere noi molto realisti del fare una partita di sacrificio, del fare una partita dove possiamo sicuramente sapere di poterli fare male, ma ovviamente devi anche sapere di dover essere una squadra ancora più compatta e concisa quando è stata l'occasione.